Mi scusi. Scusate, grazie. Mi scusi. Questo è il migliore e inaspettato incontro con un ragazzo dopo tanto tempo. È lo stesso per me, con una donna. La tua donna ideale è stata Miss Maryland. Comunque, devi portarla alle Hawaii. Non posso portarla a un ritiro aziendale. Questo non è un problema. Scrivile adesso. Ha detto sì! Aloha, merdaccia, te l'avevo detto! Sì! Devo incontrare una ragazza sull'aereo e lei è incredibile. Mi scusi, cosa ci fai qui? Mi hai mandato quel messaggio e mi hai salvato la vita. Sì, ho fatto un gran casino. Ti ricordi la ragazza di quel folle appuntamento? Non c'è niente di te che potrebbe deludermi, ti amo. Credevo di messaggiarmi con la donna dei miei sogni. E invece era quella ragazza. Al miglior weekend in assoluto. Oh mio Dio! Sei rico! Ce l'ho fatta! I miei insegnanti possono baciarmi il culo! Oh Gesù. Ci sono in programma tante cose in questo ritiro e non vedo l'ora di conoscere ciascuno di voi. Io potrei avere un po' esagerato parlando di te. Sei ossessionato da me. Potrebbe finire che ci sposeremo o potrei finire nuda e stecchita in un burrone. Cosa? A me vanno bene entrambe. Ti prego, fa che tutto sia tranquillo. Calmo e con un certo contegno. Devi andare in canoa verso un'isola e se ce n'è una vicina o lontana. Questo è Shark Tank nella realtà. Tu con me, forza! Devi andare! Puoi andare, mettilo. Lo metto in bocca adesso? Sì, nella tua bocca. Non ringraziarmi? Ma sì, non è chi pensavo che fosse. È incredibile. L'adoro! Sono un po' folle anche lui. Davvero? Non ti farò saltare. Ti amo, Tim Murray! Merda! Oh mio Dio! Gesù! Oh mio Dio! È ancora viva! È imbarazzata! Grazie! Non ti farò pulsare! No ti farò lo tonsare! No!